troppo tardi capito? Maria tanti auguri e un bacione allora in Italia non si parla più l'italiano perché anche in federazione abbiamo fatto un call, poi abbiamo creato un chat e mi sono fatto una clap tutti quanti, chi si fa il call, chi si fa il chat e mi sono fatto una clap traducete voi che vuol dire clap, io perché dico questo? ma volete parlare italiano? Io sono italiano, parlate l'italiano cioè per dire una riunione un call, un call una call conference, una call conference un call call, una clap, 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 capisci? poi la chat, chiamo avanti quando è fregno, si strunzi l'italiano, so fregno guarda quando siete stupido guarda, l'italiano, Roma è comandato per 400 anni tu pensi a me che andiamo a parlare inglese?